Dottoressa, dottoressa sono tornato, ho trovato un predatore, eccomi. Eccoti qui, il mare splendente, Virgil, cos'è successo? Eeeh, tante cose, ho incontrato Virgil, abbiamo parlato dell'istituto e ho ucciso un predatore. Ho trovato Virgil, ha accesso all'istituto ma mi serve il codice del chip di un predatore. Chip dei predatori? Hai affrontato un predatore? Oh mio Dio. Eeeh, lo so, lo so, sono tosta. Ho lavorato su molti sintetici ma mai su un predatore. Non so cosa faccia quel chip, né come decodificarlo. Conosce qualcuno? C'è qualcuno che potrebbe. Lavoro con un gruppo che, beh, sono gli unici che conosco che forse potrebbero violare la sicurezza dell'istituto. E chi sono? Chiamano i Railroad. Oh, i Railroad. Prossima fermata, Ciu Ciu. È quello che direi io nella realtà. Va bene, grazie. Dove li trovo? Grazie, dottoressa. Come li trovo? Non posso contattarli direttamente. Solitamente sono loro. Certo, come no. Ovviamente dobbiamo trovarli noi. Sai che novità? Che vuole nuovi ricordi. Ma ho una frase in codice. Una specie di indizio in caso avessi bisogno di... Mmm, sentiamola. Segui la pista della libertà. Ah, l'ho già sentita. D'accordo, ci penso io. D'accordo. Li cercherò. Buona fortuna. Mi spiace essere così criptica, ma spero che riuscirai a trovare una risposta. Ti ringrazio. Spero anch'io di farcela. Inutile, dottoressa. Oh, cavolo. Credo di essermi un attimo persa. E come al solito i vertibur danno difficoltà a fare qualsiasi cosa. Guarda se non si fanno abbattere. Guardalo, guardalo. Guarda se non mi cade addosso adesso. Sta puntando veramente verso questa parte? Sta puntando veramente verso di me? Con tutti i posti dove poteva cadere? Vabbè. Fantastico. Per la vittoria! Eh, sicuramente. Vincerete sicuramente se vi fate abbattere ancora così, eh. Vai, vai. Prendeteli. Guarda. Meno male che ci sono io. Cosa fareste senza di me? Ma tu sei leggendario. Peccato che siamo dalla stessa parte. Oh, che è successo? Ma... Un altro elicottero sono riusciti ad abbattere. Certo che quando uno si perde scopre sempre qualcosa di nuovo. Ehi là. Salve. Dai, acquista le tue armi qui. Ho di tutto, da quelle piccole a quelle di grosso calibro. Basta che non ti fai ammazzare. Pensa come ti sentiresti bene a impugnare una di queste. Spero che tu abbia qualcosa di buono. Spara e prega. Mmm. Uccidere i nemici ti fa guadagnare un quantitativo molto piccolo di munizioni. Mmm. Niente di eccezionale, ma ti ringrazio. Facciamo girare un po' l'economia. Compriamo anche un po' di munizioni. Perché no, anche qualche nucleo di fusione. Scusatemi un secondo, ma ho una piccola epifania. Ho messo una mod che ti fa usare le criocelle sulla criolancia. Suonava strano, ma usava le celle microfusione prima. E questa tizia qua ne vende uno che funziona. Io ci avevo perso addirittura le speranze. Perfetto, guarda. Sono contento di darti i miei soldi. Compriamo anche le criocelle, guarda. Ti regalo i miei soldi. Fai quello che vuoi della mia vita. Te, guarda, ti pago anche più del necessario. Brava cricket. Anche tu sei bravo. Tu no, tu non sei bravo. Mi stai masticando davanti. Porca miseria per trovare una criolancia che funzionava. Ti giuro, ci avevo perso le speranze. Anche questo qua che ci avevo io. Questo qua che ci avevo io prima non aveva le criocelle. Questo vuol dire o che qualcosa che ho messo, ho tolto, ha fatto partire la mod, oppure è ripartita a caso. Grazie, comunque. E sapete questo cosa vuol dire? Altro peso nell'inventario. Ora la criolancia. È un'arma del tutto funzionante. Dicevamo, perdersi ti fa trovare certo robe interessanti. Roba interessanti sì. Abbiamo trovato un altro vault. Certo, sarà anche chiuso, ma io ho la chiave. Mi dispiacerebbe non vedere che cosa c'è all'interno. Non ti muovere. Sicurezza del vault 81. Non so come hai fatto a mettere le mani su un Pip-Boy, ma ti consiglio di spiegarmelo in fretta. Vengo da un altro vault anch'io. L'ho trovato nel vault 111. Vault 111. Non ne ho mai sentito parlare. Chissà come mai. E posso chiederti per quale motivo ti trovi qui, nel vault 81? Sto solo dando un'occhiata. Sono soltanto un viandante. Volevo dare un'occhiata. Ah, davvero? E ti aspetti che creda a queste... Sì, credo proprio che lo farai. Chi è Edward? Signora, qualche nuovo viandante del Commonwealth. Non è uno dei soliti compagni. No, io ho un Pip-Boy. Beh, se qualcuno vuole entrare, può guadagnarsi l'accesso come tutti. Ovviamente. Che parlerò io. Velocizziamo un po' questa discussione. Faceva soltanto il suo lavoro. Sono certa che comprendi la nostra cautela. Eh, hai voglia. Per i nuovi arrivati, siamo soliti proporre uno scambio. Tu aiuti noi, e noi aiutiamo... Beh, non mi sembra che i commercianti fuori gli abbiate dato questa opzione. Comunque, anche io vivevo in un vault. Non c'è bisogno di fare tutto questo. Ma anch'io vivo in un vault, proprio come voi. Non potete lasciarmi entrare e basta? Chiedo scusa. Prima del tuo arrivo, ha affermato di provenire dal vault 111 e di essere in possesso di un Pip-Boy funzionante. Ah, che bello poter parlare per risolvere tutti i problemi. Va bene. Edwards, apri la porta e dai l'annuncio. Sta arrivando una sconosciuta. Edwards, io ti aspetteremo all'ingresso. Perfetto. Arrivo subito. Il vault 81. Che bello rivedere un vault che si apre. Buongiorno, amici di un altro vault. Vengo in pace. Io vengo dal vault 111. Andiamo, gue. I miei ragazzi stanno facendo i doppi turni da settimane ormai. Hanno bisogno di riposare. Eh, lo immagino. Tu ci stanno lavorando duro, Cal. Pensi che non sappia dei tuoi ragazzi? Cerca di fare il massimo. Questo è tutto quello che ti chiedo. Va bene, vedrò cosa posso fare. Ma sappiamo in trattamento che le cose non possono continuare così. Buongiorno. Come puoi vedere abbiamo alcuni progetti di manutenzione in esso. Eh, lo vedo. Ben McNamara, soprintendente. Ti do il benvenuto nel vault 81. Ti ringrazio. Non abbiamo mai incontrato un abitante di un altro vault. Eh, immagino. Questo vault 111 di cui parli è ancora operativo. Direi di no. Eh, lo so, grazie. Ci avevano congelato. Poi qualcosa si è scongelato troppo. Ci avevano congelato criogeneticamente in delle capsule. Però qualcosa è andato storto. Sì, un pazzo assassino. Tutte quelle vite perse a causa di un'avaria. Questa è una cosa inaccettabile. Già, purtroppo succede. Qui siamo molto orgogliosi di aver mantenuto funzionante il nostro vault per oltre due secoli. Eh, meno male. Vorremmo poter dire di essere autosufficienti. Ma la realtà è che ci sono risorse che non possiamo produrre da soli. Fammi indovinare. Tipo l'acqua in Fallout 1. Restare isolati è una follia. C'è un mondo da scoprire. Guarda, restatevene qua al sicuro che è meglio, va? È molto probabile. Anche se interagire non fa certo male. Molto, molto piano. Esatto. Eh, certo. Vai a fare quello che devi. Grazie, io vado a farmi un giro. Se li dovessi causare, tu sarai il primo a saperlo, credimi. Ehi là. Un'altra faccia nuova. Per cosa ti hanno fatto entrare? Per farmi cacchi miei. Vediamo cos'è da vendere, su. Voglio solo commerciare un po'. Beh, cerca di fare in fretta. Qui non abbiamo bisogno di quelli come te. Uh, allora non hai bisogno neanche dei miei soldi. Che cos'hai contro i forestieri, simpatigona? Si può sapere cos'hai contro i forestieri. I forestieri non fanno che approfittarsi di noi. Non siete altro che degli egoisti, degli animali. Certo, come no. Però io vengo da un volt. E comunque, se dici una cosa del genere, vuol dire che è successo qualcosa? Perché dici una cosa del genere? Ti è capitato qualcosa di brutto? Sì, però frio così. Ho conosciuto una ragazza arrivata da fuori. Ah, allora non ce l'hai con i forestieri. Ce l'hai con la gente che ti mente. Simpaticona, manneggia lei. Strizza un po' le balle anche tu, eh. Finché un commerciante di passaggio non mi ha detto di averla vista insieme a un uomo a Diamond City. Eh, vuoi che la rintraccio? Siete tutti dei bugiardi e pensate solamente a voi stessi. Certo, come no. Che è successo? Davvero notevole. Ah, ti ringrazio. Hai un bel coraggio a indossare quel Pip-Boy nel Commonwealth. Mi sembra incredibile che non abbiano ancora tentato di rubartelo. Questo è vero. Ehi, un gattino. Gattino, fermati. Ho appena visto un gatto scappare. E il tuo Pip-Boy non ti dà mai problemi? Il mio ultimamente ha perso qualche colpo. Il mio non so come faccia a rimanere ancora in piedi. Che splendore. Gli unici volti che ho visto facevano schifo finora. Davvero, arrivi dal Commonwealth? No, mi son teletrasportato. Sì, perché vuoi saperlo? Sì, perché vuoi saperlo? Perché non ho mai incontrato prima qualcuno che arriva dal Commonwealth. Ah, beh, piacere di conoscerti allora. Interesserebbe fare un bel tour guidato di questo posto. Costa solo cinque tappi. Tour sì, ma niente tappi. Il tour si può fare, ma niente tappi. Ok, va bene. Accidenti, che braccino corto. E tu che simpaticone sei. Questo è il deposito. Scommetto che hai ucciso un sacco di creature strane. Più di quanto ne vorresti sapere. Di sicuro hai affrontato anche i predoni. Ho ucciso più predoni che creature, effettivamente. L'ufficio del soprintendente è là. Vedo che stai facendo fare un bel giro al nuovo arrivo del mondo. Salve signora. Esatto. Questo è il ristorante Sunshine. Austin, i tuoi capelli sembrano una tana di rattitano. Visto? Te l'ha detto anche lui. Uh, una rivista. Sì. Non me ne frega niente di quello che mi stai dicendo. Adesso andiamo dalla nonna. Andiamo a conoscer nonna. Io vivo con lei. Anche se in realtà non è la mia vera nonna. Oh, mi dispiace. Mi piace. Piccolino. Tua nonna che cosa fa? Ah, fa le piante. Bene. Austin, che cosa ci fai qui? Stai dando fastidio al nostro ospite del Commonwealth? Sì, signora. Mi sta dando fastidio. Anzi, la sto aiutando. Sì, ma non ti pago comunque. Quella è la nonna. Si prende cura di me. Tu puoi chiamarla Dottoressa Penschi. Dottoressa. Ma serve la burbera. Ma per finta. Questo lo dici tu. L'era, capo del laboratorio di idroponica, che produce tutto quanto il nostro cibo. Eh, lo vedo. Signora, suo nipote è fastidioso. Avanti, sbrigati. Sì, sì, arrivo. Bambino petulante. Ti farò vedere dove vado a scuola. Come se mi fregasse. Come se tu non devi andarci a scuola. Lo dici tu. Io ci sono già andato. Questa è la scuola. Ti prego, dimmi che dopo abbiamo finito il tour, Austin. Questa è la nostra clinica. Ora andiamo da Erin. Resterà sorpresa quando ti vedrai. E chi è Erin? La tua amichetta? La tua fidanzatina? Erin e io passiamo un sacco di tempo insieme. Ecco la sua fidanzatina. Quando gli ho detto che ti avrei portato da lei, non mi ha creduto. E quando gliel'hai detto, scusami? Ma guarda un po' quei bambini che stanno disegnando per terra. Ma compratevi dei fogli. Anche lei? Ma porca puttana, ma non ce l'avete dei fogli su cui disegnare? Erin, guarda chi c'è qui. L'ospite del Commonwealth. Ciao. Wow. Arrivi davvero dal Commonwealth? Sì, ma tu sei tutta un po' piegata strana. Sono una persona come tante altre. Non c'è niente di speciale, sai. Sono una persona come le altre. Sì, ma nessuno nel vault caccia per procurarsi il cibo. Beh, effettivamente. Oppure con l'oppo usando armi da fuoco. Grazie per aver fatto questo giro con me. Sono stato felice di farti conoscere tutti. Beh, se vuoi te li do cinque tappi. Senti Erin, era tu quel gatto? Scusami, hai visto il mio gatto? Sì. Sì, è sparito, l'ho visto. Credo sia uscito. Credo che sia uscito dal vault. Mentre entravo mi è passato accanto di corsa. Ha lasciato il vault. Oh, ti prego, riportalo a casa. Per favore. Nessun altro andrebbe là fuori a cercarlo. Va bene Erin, lo trovo io. Lo troverò. Grazie. Si chiama Ashis ed è un gatto grigio dolcissimo. Vorrei che tornasse a casa. Speriamo che non se lo siano mangiati mai, Lurk, allora. Micio? Micio, dove sei? Eccoti qua. Ma piccolo lui. Volevi vivere una bella avventura, eh? Vai a casa, su. C'è la tua padroncina che ti aspetta. Corri. Bastardo? Maledetto robot. Non toccare quel gatto. È ancora vivo il micio? Non lo so. Ma lo spero. Sì, è ancora vivo, per fortuna. Corri. Qui è pericoloso. Lo sto seguendo perché voglio essere sicuro che arrivi a casa. Ehi, ciao. Adesso voglio vederlo prendere l'ascensore, giuro. Cioè, pensa a sto gatto poverino che è inseguito da una donna con un artiglio di deadclo in mano. Vuoi che te lo apro? Vai, dentro. Che bello che sei. Eh, miau. Guardalo che sta davvero sull'ascensore con me. Ma che bello che sei, santo cielo. Eccoci, bim, bim, gatto. Eccoci, bimba. Ti ho riportato il gatto. Eh, e si sta stiracchiando. Ero così preoccupata. Eh, lo so. Non c'è di che. Non c'è di che. Sono felice che stia bene. Ah, scisa. Nucleo di fusione. E la madonna, dove l'hai preso? Sono quando ero preoccupata. E scommetti che ora la mamma mi costringerà. Ma zitti. Sta parlando col gatto. Lo so. Non piace nemmeno a me. Però sono felice che tu sia tornato. Miau. Eh, miau, appunto. Non deve essere facile vivere là fuori. No, non lo è per niente. Dottoressa, prima l'ho sentita dire che ha bisogno di semi. Chiedo scusa, dottoressa Penschi. Dicolorazione quasi assente. Struttura cellulare particolarmente resistente. Sì, sì. Non riesco a ottenere le patate che vorrei. Dovrò vedere come resiste all'esposizione diretta. Ah, andrai a meraviglia. Sai, sto cercando qualcuno che provi questo nuovo tipo di frutto che ho creato. Ah, sì? Mi vuole come cavia. Perché? Si tratta di un nuovo tipo di frutto mutato che ho appena sviluppato. Certo. Devrà essere nutriente e anche capace di rimuovere l'avvelenamento da radiazioni. Però mi serve una cavia per verificarne gli effetti. Va bene, proviamolo. Ma certo. Mi piace la frutta. Eccellente. Dimmi cosa ne pensi del sapore e come ti fa sentire. Adesso vomito verde su tutto il muro. Va bene, proviamolo. Frutto mutato fresco. Hai provato il frutto? Forza, dimmi com'era. Ehm, buono? Era buono. E non ha causato effetti collaterali. Lo sapevo. Molto, molto bene. Inizierò subito a prepararne degli altri. Buon per lei, signora. Visto che mi hai dato una mano, magari potresti anche aiutarmi con un'altra faccenda. Certo, mi dica pure. Io ho bisogno di piante per condurre i miei studi. E queste piante richiedono particolari sostanze nutritive. Le carote in particolare. E beh, certo. Se tu trovassi del fertilizzante durante i tuoi viaggi nel Commonwealth, sarei felice di ricompensarti. Va bene, le troverò della mer... del fertilizzante, certo. Certo, non c'è problema. Davvero? Splendido. Proprio non mi andava ad inoltrare una nuova richiesta ufficiale al soprintendente. Certo, facciamola sotto banco in nero. Il dottor Forsyth vorrebbe che andassi da lui, quando hai un momento. Certo, ci andrò subito. Salve, signora. Ma guarda, l'ospite del Commonwealth. Ti do il benvenuto al deposito. E scusa il disordine. Non ho molto tempo per pulire... Eh, lo vedo. Potrei voler vendere o acquistare qualcosa. Splendido. Da me puoi trovare di tutto. L'importante è che tu abbia tappi. Guardiare il sovrintendente. Fa più danni all'interno. Hm, interessante. Beh, questo lo compro volentieri. Perfetto, ti ringrazio. Ma c'è il gattino a scuola. Ma dai, è venuto a imparare anche lui. Sta facendo lezione anche il gatto. Nonna dice che quando si parla di cibo, io sono un pozzo senza fondo. Eh, immagino che fogna che sei, Austin. Oh, il nuovo arrivo. Ero così preoccupata. Scommetto che hai vissuto avventure di ogni genere nel Commonwealth. Eh già, ho vissuto momenti interessanti. Ho vissuto alcuni momenti interessanti. Ma andiamo, la modestia non serve. I miei bambini sarebbero molto felici di ascoltare quello che hai fatto nel Commonwealth. Certo, che cosa vuole che racconti? Non è che potresti venire a parlare con loro condividendo alcune delle tue esperienze. Potrei raccontare qualcosa, sì. Immagino che potrei raccontargli qualcosa. Non ci metteremo molto, non temere. Non lascerò mai più che Ashis si allontani. Brava ragazza. Argomenti da evitare? Quali argomenti devo evitare? Nulla di troppo violento, per favore. Sono certa che ti faranno tantissime domande. Eh, immagino. Va bene, cosa vuoi che racconto? Con piacere. Fantastico. I bambini sono davvero emozionati. Eh, immagino. Per quei quattro bambini che sono. Bambini, ascoltate. Oggi abbiamo con noi un ospite che ci racconterà delle storie sul Commonwealth. Oh. Hai mai combattuto contro un Deathclaw? Lo vedi questo guanto? Sì, ci ho combattuto. Come fai a conoscerli comunque? Come fai a conoscere i Deathclaw? Ne ho sentito parlare. Certo, come no? La nonna mi ha sentito parlare da qualche persona arrivata dal Commonwealth. Comunque sì, ne ho uccisi parecchi. I Deathclaw sono molto pericolosi. Non è stato uno scontro facile. Certo, ingrandiamo un po' questa cosa. Dei predoni avevano circondato un mio amico. Un gruppo di predoni aveva messo in trappola il mio amico Preston. Però tu l'hai salvato, vero? L'ho salvato. Preston mi ha mostrato dove potevo trovare un'armatura atomica da riparare. Un'armatura atomica! Wow! Ne ho un sacco io. Quando il Deathclaw si è fatto avanti, ho preso una pistola. Quando il Deathclaw ha attaccato, ho preso una delle pistole dei predoni, che però aveva soltanto tre proiettili. Io sarei scappata via. Eh, immagino Erin. Poi abbiamo continuato a sparare finché non è morto. Preston e io abbiamo continuato a sparare finché non è morto. Scommetto che ci sono voluti un sacco di colpi. Non così tanto. Grazie per averci raccontato una storia. Bambini, ringraziate. Grazie. Abbiamo preparato un dono per ringraziarti. E perché me lo stai dando dalla lavagna? Oh, questo sì che è un bel dono. Grazie. Lo accetto volentieri. Grazie a tutti i bambini. E grazie anche a te, gattino. Mi interessa più di te che di questi bambini inutili. Eh, dottore, salve. Mi avevano detto di venire da lei. Salve. Spero di non sembrarti arrogante, ma vorrei chiederti un favore. Certo, manco ci conosciamo, ma accetto volentieri. I campioni per la ricerca medica. Anche un semplice campione di sangue. Eh, e a cosa ti servono? A che ti servono i campioni? Li userò per le mie ricerche. Di che tipo, però? I dati del volto 81 sono rimasti geneticamente isolati dal resto del Commonwealth per numerose... Beh, io ho ancora di più. Sto cercando di stabilire quale sia il grado di variazione genetica fra le due popolazioni. Ho 200 anni di differenza fra di voi, ciccio. Però va bene, se vuoi il mio sangue, prendilo pure. Non l'hanno preso i vampiri e te lo do a te. Certo. Prendi pure un po' di sangue. Ottimo. Siediti. Ti prelevo un po' di sangue. Dove mi siedo? Ci vorrà un attimo. Faccia piano, eh? C'ho delle ferite da pistola io sul braccio. Ecco fatto. Non è stato doloroso, vero? No, però vorrei una caramella. Il tuo aiuto sarà prezioso. Di niente. Devo mettermi subito al lavoro. Vada pure. Beh, sovraintendente. Ho fatto un giro per il suo volto e devo dire... Sovraintendente? Sovraintendente? Presidente. Dov'è sparita? Ah, eccola. Le stavo dicendo. Dovrei dirle che non è niente male. Sovraintendente. Se non l'hai già fatto, dovresti passare in classe. Katie vorrebbe che tu parliate. Già fatto, signora. Di qua si va per il reattore, eh? Eeeh. Ma che bello il reattore che avete qui. Per favore, se hai richieste di manutenzione, presentale al signor De Luca. Saranno gestite nell'ordine di ricevimento. Perfetto, Rusty. Grazie. Salve, signora De Luca. Salve. Ehi, senti, fammi un favore. Se quel buono annula di mio fratello ti chiede del jet, dimmi di andare al diavolo. Va bene, sarà fatto. Va bene. Ascolta, è un drogato, ma adesso sta esagerando. Se si farà beccare, finiremo in tre minuti. Ma scusami, ma tu hai un tatuaggio in fronte. E per favore di farmi prendermene da questo posto, non è così che intendo farlo. Forse dovresti parlargli. Dovresti parlargli. Fargli capire che rischia di combinare un casino. Credimi, ci ho provato. Ma non è facile. Vuoi che ci provo io? Non ho bisogno di avere una mia fetta di colpa. Sono io a fornire le droghe a Bolle. E allora di che cazzo ti lamenti, Tina? Adesso però basta. Smetterò di passargli la roba. E vedi tu, però, brava. Questo è il primo passo per aiutare tuo fratello. Avrei dovuto farlo molto tempo fa, ma qui le cose non sono per niente fatte. Eh, immagino però, ciccia. Ti lamenti del problema che tu stesse creato. Ehi, guarda chi c'è. Sai dove sei? Quaggiù non si commercia. Senti, drogatello, stai buono? So dove sono comunque. So dove sono. Beh, ti do il benvenuto nel locale Generatori, allora. Oh, un'altra cosa. Se hai del jet, per caso, sono disposto a pagartelo bene. Certo. Come no. Non sono un trafficante, Bobby. Non sono un trafficante di droga. Ehi, senti. Se tu potessi dimenticarti di questa nostra piccola conversazione... Ecco, bravo. Eviti di smetterla. Però non dirlo a Tina. Me la troverei addosso in un secondo. Cazzo. È già tanto che non te la trovi addosso adesso. È qui. Genio. Vabbè, è stato un piacere. Io vado a farmi un giro e magari ci rivediamo. Oh no, la fattoria è in pericolo. Guarda il mio Gekko che parte all'attacco. Vieni qua. Maledetto. Spacco la faccia, eh. Dove sei? Maledetto. Vi ammazzo tutti. Dopo aver ammazzato quel deadclaw gigante non mi ferma più nessuno. Non toccare il mio amico Gekko. Maledetto. Rider schifoso. Vieni qua. Tu la tua maledettissima armatura atomica. Eccone uno. Eccone due. Vai, l'attacco, l'attacco. Eccone tre. Maledetti schifosi. Ah, ma tu sei anche... Tu, un rider. Già, avrebbe dovuto. Ma non l'ha fatto. Ma tu mi sembri cresciuto. Ehi, piccolino. Non male, bel combattimento. Vedo che qua ti sei ambientato. Ma dai, hanno ammazzato anche il bovino. Poveraccio. Però sai cosa faccio ora? Ti rubo l'armatura atomica. Ah, certo che nel Commonwealth si è sempre occupati. Meglio portarcela a casa. Tu stammi bene, eh? Poi verrò a ritirarti un giorno. A proposito delle mie armature. Gli ho parlato di come ho ucciso quel deadclaw, ma non gli ho fatto vedere l'armatura. Ah. Facciamo un giro di nuovo con l'armatura. Magari saranno piacevolmente sorpresi. Ehi là, amici. Sono tornato con un'armatura atomica. Sono sicuro che i bambini impazziranno per questo. Dov'è Austin che gli faccio vedere una cosa bella? Dottoressa? Salve. Devi fare qualcosa, Jacob. Sto eseguendo i test il più rapidamente possibile, Priscilla. Non posso curare Austin se prima non so da quale infezione... Come? Sta male Austin? Non ora, Bobby. Per quanto riguarda te dovrai aspettare il tuo turno. Abbiamo un'emergenza. Eh, lo vedo. Austin è stato morso da un ratto talpa. Non basta sapere questo, Jacob. Non possono esserci così tante malattie o tossine legate ai ratti talpa. Ratchel sta esaminando il ratto talpa. Spero che possa scoprire qualcosa. Avete bisogno di una mano? Questi non sono normali i ratti talpa. Chissà che genere di malattie possa... Orca troia. Dato che è solo un bambino, l'infezione si sta diffondendo rapidamente. Oh, poveraccio. Dottor Forsythe, per favore. Forse ho trovato qualcosa che potrebbe aiutare Austin. Bobby! Aspetta, Priscilla. Signora, si calmi. C'è, Bobby. Beh, sapete quella porta che ha trovato Austin? L'ha trovata per colpa mia. Eh beh. Che porta stiamo parlando, scusa. E lui mi ha visto mentre li prendevo. Le tue droghe, vuoi dire? Arriva al dunque, Bobby. Cos'hai trovato lì? Beh, sembra che ci sia un altro volta là dentro. Anche se mezzo rovinato e crollato. Là c'era un terminale. Così ho cominciato... Un altro volta? C'erano delle note e alcune indicazioni su come si possono usare i ratti talpa come colture per virus. Però c'era scritto che li hanno usati anche per preparare vaccini e medici... Ma scusa, quindi già conoscevano i ratti talpa, questi? Oh mio Dio, non avevo mai sentito nulla del genere. Neanche io e vengo da un altro volta. Non c'è ne strafatto. Da qualche parte là dentro potremmo trovare la cura per la malattia che il ratto talpa ha trasmesso ad Austin. Ehi tu, che ne dici di fare un favore al volto 81 e magari di salvare la vita di mio figlio? Assolutamente. Sarei felice di essere d'aiuto. Speravo di poter contare su di te. Bobby ti mostrerà dove tiene il suo nascondiglio. Perfetto. È possibile che ci sia una cura per Austin lì dentro da qualche parte. La troverò allora. Se la trovi, vantala al dottor Forsythe. E ti prego, fai presto per il bene di Austin. Assolutamente signora. Fai strada Bobby. Fai attenzione ai ratto talpa lì dentro. Se hanno infettato Austin potresti correre lo stesso rischio. Ottimo. Tranquillo. Sono in armatura atomica. E soprattutto... Sono ben armato. Forza Bobby. Mostrami come entrare. Dov'è la porta Bobby? Bobby. Tan 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 tan... Sei un mago Bobby. Tranquillo Bobby. Ci penso io. Allora. Dove siete? È meglio accendere la luce. Non si vede nulla qua dentro. Questa era davvero un altro volt all'interno di questo volt. O forse... Non all'interno. Maledetto. Pure i robot ci volevano, eh. Maledizione. Come se non bastassero i ratto talpa. Oh. Torrette. Quindi avevano paura che qualcuno entrasse qua dentro, eh. Addirittura. E sono salito di livello. Fantastico. Certo che questo posto è distrutto completamente, eh. Dobbiamo fare attenzione. Potrebbe crollarci addirittura sotto i piedi. E meno male che ho preso l'armatura atomica. Pensa se un ratto talpa mi mordesse adesso. Fino ad ora, tra l'altro, abbiamo trovato pochi ratti talpa. Anzi, ne abbiamo trovato solo uno. In ogni caso, ovunque c'è un po' di terriccio, potrebbe nascondersi un ratto talpa. È stato molto divertente tutto ciò. Sicuramente stava cercando di nascondersi. Ecco appunto. Ti pareva che non appariva qualcosa adesso? Meglio stare in un punto sovraelevato. Come fate a scavare in mezzo al cemento? E al metallo, voi? Eccolo là. Mi sa che qualcuno mi ha morso. Malattia del ratto talpa. Ah, fantastico. Non è servito a niente mettersi in un posto elevato con l'armatura atomica. Beh, allora questo vuol dire che posso fare... Certo, si sta esagerando. Probabilmente domani Austin tornerà a giocare. Esagerato, ma dobbiamo fare il possibile per Austin. So che fare. Neanch'io, Priscilla. Perché proprio tu? Come faccio ad aprirlo? Essere un bambino se la caverà. Vedrai. Ho sentito tutta la discussione, ma non ho visto nulla. Ne sento altri. Eccoli che arrivano. Tu e il tuo staff dovrete assicurarvi che tutti gli abitanti siano sotto stretta osservazione medica. Ho capito, ma soprintendente. Niente ma, è per il bene del mondo. Non possiamo rischiare la diffusione di questo agente patogeno, dottor Forsyth. Sì, soprintendente. Ah, allora vedi che c'hai paura anche tu, eh? L'infezione progredisce rapidamente. Dobbiamo trovare il modo di fermare la diffusione. Bastardo. Tranquilli, ci sto lavorando. Dove sei? Eccoti qua. Questo fucile al plasma è fantastico. Ah, guardali qua. È qui che facevano i lavori su voi topastri, eh. Guardalo lì. Cosa fai? Spunti dal soffitto. Ora sia Austin che io siamo infetti. Apri la porta. Certo, mi dispiace per quel bambino, ma non posso certo rimanere malata anch'io. Ma guarda un po'. Delle tombe. Dentro questi due ci sono due cadavere interi. In questo c'è un vaso turchese. Cosa mi sta a significare? Ehi là. Ciao. Un'altra persona è strana. Ciao. Sei della sicurezza della Voltec. Li aspettavo da molto tempo. Sì, sì, sono della sicurezza. Sì. Non vedi l'armatura? Non sono rassicurante? Tanto fa ho inviato una chiamata di emergenza. Iniziavo a temere che fosse successo qualcosa di buono. Tipo una guerra atomica? Sono rieta di comunicare che ho completato i miei incarichi primari 83 anni fa. Benissimo. I miliardi di agenti patogeni si sono sviluppati nei ratti tau. Eh, l'ho notato. Quando è stata sviluppata una singola cura ad ampio spettro e in grado di curarli tutti. Si è trattato di un lavoro gratificante, durato decenni. Eh beh, 83 anni, sti cazzi. Eh beh, lo credo. Eh, sì, se vuoi puoi andartene. Eh. Vuoi seguirmi magari? Ho sempre spazio nel mio gruppo. Aspetta un attimo. Certo, ti ringrazio. Digitale, ti chiedo di usare subito la cura per prevenire inutili sofferenze. Eh, c'è ragione. Però devo assarti che ne è rimasta una sola dose e che non potrò sintetizzarne altre. Eh, immagino. Cura del volto 81. Dannazione. Ne abbiamo solo una, eh. Se non c'è altro, sono impaziente di andarmene. Grazie per la cura, allora. Grazie per la cura. Spero che questa cura riesca ad aiutare qualcuno che ne ha bisogno. Tipo me. Ora spero di poter proseguire la mia ricerca scientifica. Dato che il mio incarico qui sia concluso, ti seguirò all'esterno. Certo, vieni pure. Io intanto mi prendo questa. Gli steampack curano il 10% in più. Ottimo. Prendiamo anche questo, il Neverending M2 Voltec... Tech Cleaner. Niente più, eh. Capienza munizioni illimitata addirittura. E la madonna. E anche questo. Vediamolo un attimo. Scusami, da quando i miei lanciafiamme hanno questo problema di texture? Fino a poco fa non ce l'avevano prima che vedessi questo lanciafiamme, giuro. Comunque, è chiaro che mi manchi qualche texture qui. Però bello. Mi piace che sia unico. E comunque, mi dispiace per i tuoi colleghi. Sono sicuro che erano brave persone. Oh, ma guarda, un ratto talpa... Grosso, grosso. Vieni qua che ti congelo la faccia. Anche se non mi si è visto. È bellissima questa... Questa scena. Dove sei? Aspetta. Ecco fatto. L'hai ucciso? No. Che è successo? È esploso. I monsi e i nemici sono stati eliminati. I monsi e i nemici. Certo che i ratti talpa ne hanno fatto di casino in questo posto, eh. Un'analisi di routine indica che gli effetti delle radiazioni su di te sono stati modesti. Curioso. Eh, lo so. Mi curo io, eh. Ed eccoci di nuovo in superficie. Sono abbastanza sicuro che questa sia una porta nascosta. Ovviamente. Ciao a tutti. Curi, ti dispiacerebbe seguirmi un attimo? Ti mostro una cosa molto carina. C'è tanto da vedere e imparare. Eh, lo so. Lo vedi questo, Curi? Non sarà un macchinario medico. Ma ti mostro una magia. Tu ci avrai messo anni per sintetizzare questa cura. E io in un attimo le ho duplicati. E ops, ora sono tre. E ops, ora sono cinque. Visto Curi, non sarò un medico. Ma sono un mago. E cosa più importante, posso curare sia me stesso che Austin. Quelli in eccesso li mettiamo giù. Non si sa mai che li vogliano. Eccomi, scusate l'attesa, ma ho la cura. Tieni, prendila. Prendi la cura e usala sul ragazzo. Una sola dose? Spero che funzioni. Fideti che funzionerà. Al contrario, non resterà nulla da analizzare per poter riprovare. Speriamo che funzioni. Ho saputo del tuo ritorno. Eh, buongiorno, eh. Secondo me funzionerà. Su di me ha funzionato. Zacchete nel culo. Ai! Non dovrebbe volerci molto. No, su di me ha fatto effetto istantaneo. Cosa? Dove sono? Sei alla clinica, Austin. Eri molto malato. Questa persona proveniente dal Commonwealth. Ciao, Austin. Ha salvato la vita. Davvero? Cavolo, grazie. Di nulla. Non è tanto vero, eh. Non succede mai niente di interessante. E c'ha ragione. Beh, se non fosse stato per questa persona, potevi morire. Eh, è vero. So che hai fatto dei sacrifici per aiutarlo. Sì, è vero. So che il dottor Penschi ti sarà riconoscente. Di nulla. Mh, potresti anche tenerla, eh. Ti è riconoscente. Vorrei assegnarti una stanza qui nel vault. Un luogo in cui potrai sentirti a casa. Ah, perfetto. Ti ringrazio. Sulla sinistra, quando esci dall'ascensore. Grazie di nuovo. Di nulla. Che è successo, uno si aspetterebbe che il bambino... C'è qualcosa da mangiare. Da, c'ha fame, sto poveraccio. È un vero peso morto. Ah, va bene. Ti ringrazio. Signora, ho curato suo nipote. Proprio la persona che speravo di incontrare. Volevo ringraziarti per ciò che hai fatto per Austin. No, si figuri. Era la cosa giusta. Era la cosa giusta da fare. Non sarò certo io a contraddirti. Il tuo è stato un atto disinteressato. Una cosa piuttosto rara per qualcuno che proviene dal common. Ma io sono una brava persona. Tu sei perché una persona rara. Servirebbe più gente come te, dentro e fuori dal volto. La ringrazio. Comunque, sono certa che hai parecchio da fare. È vero. Volevo soltanto ringraziarti per aver salvato Austin. Sai, il lavoro per me è molto importante, ma è soltanto grazie a quel bambino che posso tirare avanti. Che caruccia. L'affirmazione sia di tuo gradimento. Sì, lo è. Volevo ringraziarti di nuovo per ciò che hai fatto per Austin. Ah, si figuri. Hai aperto gli occhi a molta gente, sappilo. Me compresa. Non avevo idea dei pericoli che la Voltec avesse nascosto qui accanto a me. Eh già, purtroppo. Non posso credere che così tante persone siano morte appena oltre le nostre parecchio. Già, c'era una puzza di morto di là. Qualunque fosse il loro progetto, ora è finita. Qualsiasi fosse il progetto della Voltec è fallito ed è costato la vita a tutto il personale che ci lavorava. Non c'è altro da aggiungere. Meglio non pensare a cosa avessero in servo per noi. Già, meglio non saperlo. Però c'è da dire che hai dato materiale su cui riflettere a tutti quelli del partito anti-Commonwealth. Sì, è proprio vero. Stanno iniziando a capire che è possibile fidarsi dei forestieri. Che non dobbiamo vederli solo come una fonte di risorse. Eh, siamo anche brave persone. Anzi, spero che le tue visite diventeranno sempre più preferite. Credo che non passerò più di qui e lo sapete anche voi. Farà capire a tutti che il Commonwealth non deve essere soltanto temuto ed evitato. Ah, non c'è di che. Hai visto simpaticona? Ho salvato un bambino. Ho saputo quello che hai fatto per Austin e... Ecco, grazie. Ascolta, scusami se prima sono stata sgarbata. Sono una persona che sa riconoscere i propri eroi. Eh, meno male, se no adesso ti menerei. Grazie a tutti.